Spaventoso incendio oggi pomeriggio a Biancavilla che ha interessato un vasto territorio creando notevoli disagi a molti cittadini poiché le fiamme hanno lambito alcune abitazioni e il fumo inva su diversi quartieri. Il rogo è divampato intorno alle 15.30 nella zona bassa di via Scirfi in prossimità del vecchio mulino. Le fiamme hanno avvolto anche parte dell'antica struttura, i ruderi della chiesa dello spasimo e vegetazione varia. In fiamme anche molti copertoni abbandonati che hanno prodotto colonne di fumo nero, che hanno reso l'aria irrespirabile. Non sono mancati momenti di apprezzione perché le fiamme come detto hanno lambito anche alcune abitazioni a dare l'allarme agli abitanti di via Scirfi. Sul posto a domare l'incendio i vigi del fuoco e gli operai della squadra d'incendio della forestale. Sentiamo questo signore che abita nelle palazzine proprio alle sue spalle. In questo momento avete dovuto lasciare casa perché c'è il fumo che ha avvolto tutto l'edificio. Abbiamo chiuso tutte le finestre, le porte, siamo andati via e ci siamo affacciati in questo balcone per vedere cosa succedeva e basta. Finalmente si vede che le fiamme sono state domate. Speriamo che tutto va bene. Diceva la socia che ci sono stati momenti di paura, vero? Sì, certo. Paura per le fiamme. Noi bene o male siamo un pochino distanti con la strada ma le persone che abitano nelle palazzine più avanti avranno avuto molta più paura di noi. Ma in questo momento tutti hanno lasciato le case? Sì, sì, in questo momento sì. Abbiamo preso anche la vicina di casa. Con una bimba piccola l'abbiamo presa e l'abbiamo portata via. Facciamo quel poco che possiamo fare. Si è capito da dove sono scaturite le fiamme? Da lontano si è avvicinato pian piano poi fino a qua. Con i pompieri e anche gli operai della squadra di incendio, della forestale, c'è stato un momento critico quando c'è stata un'alta colonna di fumo nero. In quest'area c'erano delle gomme, dei copertoni. Questo ha alimentato un incendio piuttosto pericoloso. Sì, soprattutto non tanto la pericolosità ma bensì non essendo una zona alberata non era il pericolo di incendio. Ma il pericolo era tutto quello che le gomme prendevano fuoco e l'intossicazione che provoca alle case, ai fabbricati abitanti. Questo è il problema. Purtroppo la gente ancora non ha avuto questa civiltà e nemmeno il rispetto verso gli altri. A fare in modo che, malgrado tutto, abbiamo una discarica da Drano dove riesce a recuperare tutti questi inerti che si potrebbero portare lì. La gente attualmente è usuale buttare le cose strada e nelle campagne. Abbiamo visto che le fiamme hanno riempito alcune abitazioni. Ci sono stati anche momenti di apprezzione. Sì, questo è vero perché anche le persone hanno anticipato, anche loro, con delle cordine, con un pochettino d'acqua e hanno cercato un pochettino nelle vicinanze delle case. Però tutta la preoccupazione non era tanto quanto le fiamme ma, come stavamo dicendo, poc'anzi tutti quei copertoni che ci sono in giro, tutte quelle sporcizie che hanno buttato precedentemente.